Non ce la fa più a sopportare l'isolamento e le condizioni della cella, così ingerisce una grande quantità di farmaci collassando davanti ai medici del carcere. È solo l'ultimo episodio di tentato suicidio negli istituti Emiliano Romagnoli. In questo caso la protagonista è una transessuale peruviana detenuta a Rimini, che pochi giorni fa ha deciso di farla finita, salvata però dall'intervento tempestivo di una guardia. Nella nostra regione sono 3.502 i detenuti carcerari a fronte di una capienza regolamentare di 2.811 posti, un aumento che suona come un campanello d'allarme e obbliga le istituzioni ad affrontare di nuovo il tema del sovraffollamento. A intervenire sul problema è Marcello Marighelli, garante regionale per le persone private della libertà personale, problema a cui si aggiunge appunto quello dei detenuti che si tolgono la vita. Marighelli, richiamando il recente intervento del garante nazionale Mauro Palma, ha parlato di grave aumento dei suicidi, 7 quest'anno nelle carceri della nostra regione, su un totale di 48 in tutte le carceri d'Italia. In occasione della presentazione del rapporto sulle condizioni detentive redatto dall'Associazione Antigone, tenutosi a Bologna nei giorni scorsi, Marighelli ha sottolineato anche la presenza di detenute, 163, comprese alcune madri con figli al seguito. Un'altra questione spinosa sul territorio riguarda il numero insufficiente di direttori carcerari, in molti casi impegnati in più sedi e la carenza di educatori.